... Cerco un ragazzo per il giorno d'estate Lo voglio subito, non posso aspettare Cerco un ragazzo che non abbia da fare Cerco un ragazzo tutto un giorno per me Poco mi importa se non hai il motoscafo, no, mi interessa che guidi la sprint Lo voglio subito, non posso più aspettare, voglio che passi tutto il giorno con me Non mi importa che sia un pusto o un campione di sci d'acqua, che mi porti in barca a vela con sé Non mi importa che sia un pusto o un campione di sci d'acqua, che suoni la chitarra per me Cerco un ragazzo per un giorno d'estate, lo voglio subito, non posso aspettare Ma non lo voglio, senti me il sale, voglio soltanto che balli bene a sé Cerco un ragazzo per un giorno d'estate, lo voglio subito, non posso aspettare Cerco un ragazzo per un'ambiente a fare, cerco un ragazzo per un giorno per me Non mi importa che sia un pusto o un campione di sci d'acqua, che mi porti in barca a vela con sé Non mi importa che sia un pusto o un campione di sci d'acqua, che mi porti in barca a vela con sé Cerco un ragazzo per un giorno per un giorno d'estate, lo voglio subito, non posso aspettare Ma non lo voglio, senti me il sale, voglio soltanto che balli bene a sé Ecco, d'estate il mondo si divide in due categorie I fortunati, quelli con ville, pampili, biondone in bichini che vanno al mare E quelli che rimangono nelle città assolate e deserte, a camminare nelle vie senza ombra e senza refrigerio I poveracci che restano in città a lavorare Già, perché a Ferragosto in città c'è sempre qualcuno che lavora Oh, dammi una mano Dammi il piede Ma il piede di porco l'hai portato? Sì, dammelo Presto Questo, questo mi devi dare Ma stai sicuro che in questa villa non c'è nessuno? E che sono scemo Leggi il giornale, cosa c'è scritto? Leggi Vendosi la sua sessima villa arredata con mobile di gran valore stile Luigi X1-1 Ma che giochi è tutto calcio? Io no, Luigi Chi? Luigi dodicesimo Vendosi inoltre quadri, autori, gioielli, argenteria, tappeti, terziane Rivolgesi direttamente Dopo Ferragosto, villa delle Memos, via Cassia 1025 Quel dopo Ferragosto significa che fino a quella data qui non c'è nessuno Armando, ma sei proprio sicuro che si tratti di due imbecilli? Solo due cretini potevano credere a quell'avviso economico Che avrebbe suggerito a dei ladri un colpo così facile Ma devi aiutarli ad entrare nella villa Ok Ciccio, sei magico! Sei il re degli scassenatori Al capone davanti a te diventa un lato di galline C'è il sole Presto, mettiamoci subito al lavoro Calzi Calzi Anch'io Anch'io E queste cosa sono? Le calze, tua sorella. No, mia sorella non me le ha volute prestare, usciva col fedanzato. Ho preso quelle di mio nonno. Non le deve buttare, mi vuoi fare la tegara con mio nonno? Facciamo senza calze, vieni. Va bene, scalzate. Ma che boss? Intanto non c'è nessuno, lo so. Ma che c'è? Ci vorrebbe una finestra aperta. Ciccio, la finestra è aperta. Vieni. Aiutami, la finestra. Presto, abbassati. Vai, vai. Lasciami il collo. Ecco che ci sia. Alza. Alza. Ecco, così va bene, bravo. Bravo, sempre così. Grazie. 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 Presto, presto. Vieni. Ancora una volta ho seguito i tuoi consigli, Armando. Spero solo che non debba pentirmene. Sta tranquillo, Fred. È l'ultima occasione che hai per riabilitarti. Hai sbagliato i calcoli nell'organizzare lo sbarco a Cuba. Hai fornito dati inesatti per la costruzione del sommergibile atomico. Sono cose che possono capitare a tutti. Sì, a tutti. Ma tu sei costato già 500.000 dollari al Pentagono. Errare è umano. Ma perseverare è diabolico. Lo sai qual è il tuo difetto, Armando? Tu pensi troppo alle donne. Io dovrò farti revisionare le valvole sessuali. Siamo pochi ormai ad averle buone. I due agenti con la formula vera sono partiti. No, non ancora, naturalmente. Aspettiamo di catturare prima questi tuoi due imbecilli. Sei sicuro, piuttosto, che questo piano funzionerà? Certamente. Ora tu coglierai quei due il pallo, li minaccerai. Quando avranno la formula addosso, la pasta, li butterai in braccio ai russi. E sei anche sicuro che i russi ci cascheranno? I russi crederanno che sono due agenti astuti che fanno finta di essere imbecilli. Così la formula vera giungerà a destinazione. Ma ora, sanzito scocciatore, quei due stanno arrivando. Seguili sul video. Passo il video. Hanno passato lo sbarramento elettronico. Adesso cambio canale. Siggio, questa non è una villa, è la banca d'Italia. Siggio! E non fare il buffone! Vieni, vieni. Guarda. Quanta genteria! E non voleva venire? Sì. Guarda. Leonardo da Vinci. E chi è? Bu. Bu. Vediamo se c'è di meglio. Questo, questo? Ecco. Colaman incuso. Questo deve essere da valore. Ha un nome siceleano. Se l'ha un entusano. Che ti pare? Fila tutto secondo i piani prestabiliti. C'è colpo. Per oggi basta, andiamo? Sì. Vieni. Forza. Dagli uno strattone. Portalo un po' tu, io sono stanco. Sì. Ehi, hi, eh, hi, 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 hi. Ehi, ah. Sì, sì, sì. Sì, è in trappola. Ciccio, ci è andata male, scappiamo. Via, via, via. Un momento, come vi permettete? È inutile tentare di scappare. Sono bloccate tutte le uscite. Ed i miei uomini hanno la pistola facile. E noi abbiamo la paura facilissima. Zitto, mi permette? Sono il conte Passalacqua. Mi interesserebbe comprare questa villa. Quanto costa? Ci possiamo mettere d'accordo. Troppo cara. Arrivederci. Non fermi, ma che ci volete ammazzare? No, no, assolutamente. Io voglio solo invitarvi a colazione. Prego, servitevi. Assecondiamolo. Tu assecondalo che io mangio. Anzi. Seguitemi. Consumeremo lo spuntino di là, nello studio. Ma che è un pazzo? Questo è Armando. Mio caro, questi sono i nostri due amici. Bella figliuruna. Bella figliuruna. Evelyn, sarà meglio che tu fanno, se no Armando non funziona. Analizzavo il mappamondo. L'avevo capito. Bene, fate le vostre presentazioni. Eh? Molto piacere, signor Giubbò, chissà. Io mi chiamo Franco. E io ciccio. Mi c'è piacere, vorrei rivolgervi qualche domanda. Fred, mettili seduti. Oh, certamente, chiedo scusa. Ragazzi, fate sedere. Ma... Che ci deve dire? Veniamo alle domande. Signor Ciccio, lei mi deve dire chi ha scritto i promessi sposi. Alessandro Marconi. Fred, siamo sulla strada buona, tipica cultura, da presentatore tv. Grazie. Signor Franco, signor Franco, chi era l'eroe dei due mondi? L'eroe dei due mondi era... L'eroe dei due mondi era... Galileo Galilei. No. Gargarozzo. No. Garì, 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 Garineo Giovannini. Ma, 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 ma. Non si arrabbia, signor Girarrosto. E se no gli do un calcione e gli faccio fare telti, va bene? Non fa pare a chi dico io. Non dico a chi dico a me. Diamo, finitela ora. Litigare così come dei bambini. Ma Armando, mi meraviglio di te. Tu non sei più un contatore, sei cresciuto. Adesso sei un cervello elettronico. Armando. Eh, avanti, fatela parte. È bene. Eh, va bene. Per suggellare l'armistizio, bevete un po' di vino. Grazie, non bevo analcolici. Io berrei volentieri, ma ho la lucela allo stomaco. Ecco lui. Se non bevete, mi offendo. Si offende. Grazie. Signor Armando, graderebbe un bicchiere dello prefacante? Io sei un auto, non mi diverto. Benissimo Armando, si sono addormentati. Ho sempre ragione io, Fred. Questi due hanno un tasso di intelligenza molto limitato. Zero, zero, due. Per cento? Per mille, quello lungo, quello corto. Zero, 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 virgola zero. Ecco il microfilm che dobbiamo inserire nell'otturazione. Dì, Armando. Tu sei sicuro, vero, di avermi dettato la formula falsa? Se tu mi rompi sempre le valvole, sono sicuro, sì. Oh, beh, vorrei proprio vedere la faccia che faranno i russi quando tenteranno di realizzare la formula. L'argenteria. Prendi i quadri. Prendi il colo mancuso. Francozzo, Francozzo, vestite da carcerate siamo. Assassini, fateci uscire. Quello del giubbocco si è denunciato, è traditore. E ora siamo in galera a pane, acqua e tavolaccio. Però questo tavolaccio è morbidissimo. Ben solo di bucate. Cuscine di piume. Lo sai che ti dico? Io da questo carcere non me ne vado più. E nemmeno io. Su, ragazzi, mangiate in fretta e poi spogliatevi. Volentieri. Aspetta. Presto, presto, spogliatevi. Scusate, perché ci dobbiamo spogliare? Non vorrete mica partire in pigiama? Partire. Dobbiamo sloggiare. Già. E dove ci traducete? Come traducete? Che cosa vuol dire? No, il mio amico vuole dire dove ci trasferite. Ah, sulla costa azzurra. A Porto Azzurro. Troveremo zio Tore, nonno Galoggia. Zio Francesco, il cuggero Nucolino. Che cosa state parlando? È a Porto Azzurro, all'isola Nerva, il ritrovo di tutti i comparuzze. Una volta si chiamava Porto Longone e ci sono metà dei nostri parenti. E l'altra metà? La te tante. No, no, tranquilli, io non vi mando in galera. Anzi, siccome siete stati bravi, io vi premio. Vi mando in paradiso. In paradiso. Ma allora ci volete morti? Pietà, sono padre di sette figli. E io figlio di sette padri. No, 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 no. Io anzi vi voglio vivi e felici. Ed è per questo che vi mando sulla costa azzurra. È il posto più incantevole della Francia, dove le donne sono meravigliose. Ma in cambio di che cosa? Di niente. Assolutamente niente. Niente. Avrete miei ordini sul posto. Se ci rifiutassimo? Vi ammazzo. A che ora parte il treno? 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 Allora, un po' di che ora parte il treno. Ah, un po' di che ora parte il treno da il treno. Allora, un po' di che ora parte il treno? Un po' di che ora parte il treno. Saluto. Arriveder. Ecco i due agenti americani che portano la formula segreta. Dobbiamo catturarla ad ogni costo Gli agenti americani sono sempre abilissimi e afferbissimi Dunque la vostra missione non sarà facile Il nostro paese si aspetta da voi tutto il vostro dovere Adesso andate Li dobbiamo prendere vivi o morti Vivi? Non sappiamo dove hanno nascosto la formula Andate Eccoci arrivati in terra straniera Ricordati che qui non bisogna fidarsi di nessuno Ciccio Ce lo prendiamo un bel caffè Pazzo Ti sei dimenticato di Pisciotta? Allora un bit Peggio Peggio Le femmine Una bionda per me e una nera per lui Prego faccio io Leva le manone Facchine Attento Igor Sono furbissimi Hanno sventato l'aguato Preparati a intervenire tu Passo Bene arrivati signori Taxi Tanno Guardate che gli alberghi sono lontani Il primo è a tre chilometri Penso io Lascia il valicciom Se si vogliono accomodare Puta Maledetto imbecille Te li sei fatti scappare No No Mi vuoi spiegare perché appena salete sul cacchio Se mi hai fatto scendere Perché appena ci siamo seduti Mi sono accorto che tassamo Segniamo 200 franchi Tu capisci che dopo 4 chilometri Questo ne segnavo 200 mila Ma che c'ho scritto Scemo io Vieni Eccola becco Mi raccomando non farmi fare brutte figure Qui sono tutti signori Ma perché io sono una signorina No ma sei un caffone Prima di fare una cosa Guarda gli altri e fai come lui Ciccio Secondo te io dovrei mettere la camicia da notte E fare 25 figli come ha fatto quello Ma lo vedi che sei caffone Ma non è il vestito che devi copiare Ma le buone maniere Guarda guarda Vedi che aristocratico Copialo Ragazzino Porta sulle valigie Io? E dagli la mancia 5 franchi a me Forse si è sbagliato Appunto mi deve dare 4 franchi e mezzo del resto Lei sa chi sono io? Chi è? L'ammiraglio Beca Comandante della sesta flotta americana Ancorata a Cannes Eh si E io sono l'ammiraglio Franco Passalacqua Comandante della settima flotta dei Farrabotti Ancorata a Mazzara del Vallo Vuoi vedere che è veramente un ammiraglio? E allora perché fa il portiere? Forse per arrotondare lo stipendio Oh un altro ammiraglio Bienvenuti nella nostra casa Anche lei è ammiraglio? Beh in un certo senso si In fondo questa barca la mando avanti io I signori vogliono accomodarsi al birro? Sto eccito Grazie abbiamo pranzato Preferiamo riterarci nelle nostre camerette Prima dobbiamo compiere le solite formalità Prego Il commissario Buongior messieurs S'il vous plait vos papiers Dice se siamo venuti a piedi Aspetta Parla vous si franca itz? Ma oui naturalement messieurs Ma naturalmente signore Deato lei Ma il francese non è difficile Basta saperlo Il passaporto per favore Sì Grazie Accompagna questi signori al 325 Prego signori Le valigie No Fermati Ciccio Quel cane Che marca è? Cafone Non vedi che è un cammello? Ah Pronto Pronto? Qui ISC 05 Sono arrivati adesso Gli ho riconosciuti Hanno passaporti falsi Gli ho messi nella stanza 325 Ciao Salve Ciccio Accende la luce E accendela tu Ah come la fai difficile Che c'è Che fai a spegni questo affare I signori I signori desiderano Niente Ma che niente Gli poteva dire di spegnere quello a far accendere la luce No Ma non possiamo fare Sembra la figura dei caffoni E allora che stiamo al buio E accendi Grazie Arrivederci Buona salute Però che brava gente Ogni minima cosa Ti stendono la mano Per salutarti Veramente brava Accidente E ci siamo dimenticati A farci dire Come si apre la persiana Non li vuoi chiamare un'altra volta Faremmo una brutta figura Ci penso io Vieni Hai visto La persiana E questa Aria Spegna la luce Ciccio Un po' d'acqua Mi sento soffocato Un po' d'acqua Danne me la brocca La brocca dell'acqua Danne me la brocca Ma è una brocca Ciccio Guarda quanto è bello Questo abbeveratorio E che siamo cavalli Cafone Questo serve per lavare il bucato E guarda quella vaschietta Forse ci metteranno I pesciolini Scherzi Che c'è Eppure è bollente Chiamiamo i camerieri Presto E smettiamola con queste campanelle Usiamo il telefono Pronto Pronto Che c'è Non risponde nessuno Forse deve passare la linea Da questa parte Muovi quella levetta Quella Sì Chiameremo più tardi Che ne sapevo che rispondevano i pompieri Ora mangiamo e non se ne parla più Chiamiamola cameriera Sì è una parola Eccola è già arrivata Oh Oh se ne è andata Hai visto quello che c'era scritto Perché c'era scritto qualcosa Andate sulla spiaggia Dalle dieci all'una E abbronzatevi Deve essere un ordine Di quello di Roma Del jukebox Sulla spiaggia Dalle dieci all'una Eccola spiaggia E' bene Ecco, sono arrivato Da come si guardano attorno si capisce che il loro punto debole devono essere le donne Compagna, sei sicura di queste due? Sicurissima, compagno capo Nadia, Ninocchka, a te di Ninocchka, avvicinate spio nemico, abbracciate, baciate Sì, mi sembra che ci sia Ma sareste capaci di baciare con la stessa fuga uomini come quelli? Quei vermi Comunque, per la grandezza della nostra patria siamo pronti a sacrificare Benissimo, avrete un premio speciale Che succede? Male Ducati Scusate Fermo col mani Pestacchio Dio al suo posto, non si impicci di cose che non la riguardano E lasci stare in pace mia moglie, capito? Scusi, il mio amico credeva che fosse sua sorella Come sua sorella? Ma scalzoni Te l'avevamo detto di rompere il provinciale Ma io come potremmo Ma ce ne vogliamo andare, il sole pezza No, l'ordine diceva di abbronzarci sino a luna E sino a luna ci abbronzeremo E va bene Ma vedi Che stai Dai Che vero si è fatoso Ma si è tepegno Non è giocciato Non è giocciato Non è giocciato Non è figlio Non è solo E' bello Qui sei Ancora lei Ma mi scusate Ma come si permette E devo conciutare Cosa credeva di trovare mia moglie? Ma scalzone che non è altro Ma guarda un po' Per un maledetto pallone Cosa mi deve capitare Stai calmo Mia mamma Calmati Al pallone ci penso io Mi scusi Screanzato Ma come si permette di toccarmi? L'avevo scambiata per una palla Per una palla Fai finta di arrabbiarti Sei tu che li provochi Sei tu che li attiri Ma se non li conosco nemmeno Te lo giuro caro Non so neanche chi sia Ma non li conosci Se per questo sono il conte Passavacqua Ma faccia il piacere Basta così Vai subito a cambiarti Sti donne Sempre no Con il padua Sempre con il padua Sotto il sole No E adesso abbronziamoci E va bene Ciccio Sono quasi bollito Ce ne andiamo? No Il giubbò che si ha detto a l'una Meno cinque Meno sei Meno quattro Ti 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 Ora e una Stai fermo Non mi toccare 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 Assassine della pelle Disgrazia Disgrazia Ma cosa fate Non mi toccare Non mi toccare Accomodati Dopo di te Trasiste Anch'io Trasso Ah, assassino, assassino, pure la camicia mi hai sfracciato Che colpa è che mi ha stretto? Allargati, allargati Fammi prendere il pantalone, non mi tocca il L'hai preso questo maledetto pantalone, è colpa tua, io non mi ci mettevo il sole, io non mi ci mettevo il sole E quel pantalone Levati questo piede, fedoso, levalo davanti, non mi toccare Ah, 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 fate più là Ma che hai fatto il discordante? Date il pantalone mio, il pantalone Entra Entra Errore tuo Haaai, daai Vedamme la gamba Mamma, mamma mia come brucio Mamma, io mi spoglio Io mi vado a buttare dentro l'abbeveratorio Così mi si spegne l'incendio Chi? Piccolo uomo, tanto è lungo Vieni fra le mie braccia Piccolo uomo Piccolo uomo Non mi toccare Piccolo uomo Chi? Chiudo, fai dischi Un'altra donna Fermo Fermo Non ci dovete toccare Non è via Pugnatevi Fuori a destra Uscite Non si toccate Accidenti Sono sessualmente corazzotti Questi agenti americani hanno una preparazione formidabile Ma che sicuro sul serio questo Ma non vedete che non ci interessate Uscite, uscite Maledette siete due nostre Eccezionale Non credevo che avrebbero resistito a quella due ragazzo Tavares, queste due agenti ci daranno molto filo da torcere Adesso sentiamo che cosa dicono Meno male, ce l'abbiamo fatta Possiamo fare quello che vogliamo Adagio di lì, piano piano Ai, ai, come sei brutale E non ti lamentare che non ti faccio male Ai, ai, basta, basta Non ne posso più Sei carnevolo Io ho finito Adesso tu un pochettino a me E va bene Mettete sotto Bravo Avanti Io sono più delicato Fai come ho fatto io Piano piano con delicatezza Non ti preoccupare Ecco Sì, ti piace? Più sotto, più sotto Hai visto come sono delicato? Bravo Non te l'aspettate Eh, aspetta che taccare Non così forte Sistema XY23 Passiamo di là Mamma mia E questi chi sono? Ercole e suo agognato Adesso vi sistemiamo noi Non ci aspettavate, vero? No E chi ha? Scappa A te Presso Presso, seguimi Seguimi Buongiorno Ho l'impressione che ce l'abbiamo fatta Troppe, troppe volte Dove me nascondo? Adesso parto Qui Vieni qua No, 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 no No Non me la dai a bere Tu eri d'accordo con quei due Insomma, basta Io non li conosco quei due Anzi, sai che ti dico? Quando li rivedi Prendili a calci tutti e due Ma sì? Sì Caro I miei amanti li nascondo nell'armadio Avanti Apri Che aspetti? E va bene, adesso apri il quarto detto Ferma Senti, facciamo colazione Senti, facciamo colazione Senti, facciamo colazione Accidenti Frutti che ci sono scappati dalle mani Cosa uno alto con i baffi e un altro più basso? Precisamente Li avete visti per caso? Non possono essere lontani Non possono essere usciti così dall'albergo Non le pare, signore? Potete aiutarci a ritrovarli? Con molto piacere Li cerchiamo insieme Sì, sì, cerchiamo lì subito No, tu vai in camera, hai capito? Chiusa in camera Disgraziata Avanti, voi di qua, io di là Ci rincontreremo Via, via Adesso tornate a casa Ci penseremo noi Ehi, il professore Aspetta da un'ora Andiamo Su, sbrigati Portatelo sul lettino Mettigli eletrodi Stia tranquillo, milord Meglio la cura che la morte Benché sia la prima volta Che mi occupo del signore Vorrei tentare subito Con un voltaggio molto forte Lei che ne dice? Sono d'accordo con lei, collega Stiamo qui due Gli diamo la voglia di scherzare Stia tranquillo, milord È per il nostro bene Perché lei è il paralitico E io sono l'infermiere Attaccare la corrente Subito Altra Duecentoventi volti Portatelo via Possiamo portare via Il lampadario Paziente? Sì, sì, sì La carrozzina, prego Attenzione Può toccarlo solo lui Con dei guanti isolanti Lei non lo tocchi Prima di un'ora Ha assorbito tanta corrente Che potrebbe mandare avanti Un treno Da qui a Parigi Prende il treno Arrivederci Ehi tu Sei scarico Via Via Che è successo? Via Di dove? Armando sei un deficiente Un incompetente Quei due sono furbissimi Riescono sempre a scampare A tutti i pericoli Calma, Fred Attenuto al pegato Io scraziato Io ti faccio trasferire Al Catasto I russi Debbono mettere le mani Su quella formula E invece quei due Non fanno altro che scappare I russi Non sanno dov'è la formula Per questo Cercano di prenderli vivi Se tu li avverti Possono anche farli fuori È vero Bravo Armando Ti sei riscattato Adesso ci penso io Ora mi fai balboleggiare Con la calcolatrice Quanto? Passatemi in servizio Doppio gioco Barrichiamoci Ma è mai possibile Che tutte quante Ce l'hanno con noi Chi va là? La femmeriera Andate al Rittinzi Che hai fatto? E volevo vedere Se c'era ancora posta Parigi Città di mille luci Città di mille luci Pronto, qui Z4K5, buonasera Ivano, li riconoscerai facilmente, hanno una croce bianca fatta col gesso dietro la giacca Suono vestiti di blu, hanno una croce bianca fatta col gesso dietro la giacca Bene, non potranno sfoggerci Volete ballare con me? Certo che balliamo E' il nostro mestiere, purché ci offriate da bene Potete ordinare tutto quello che volete, acqua minerale, aranciate, latte di marco Sì, sì, facci piano, eh Io bevo un Don Perignon Per me va bene anche un Don Pasquale A me è molto lungo Prego, vuoi ballare con me? Che hai? Che ti è successo? Per me è molto lungo Grazie a tutti. 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 Non capisco che cosa è successo. I nostri uomini non rispondono più. Ho paura che quei due formidabili agenti americani abbiano venduto cara la loro pelle. Dove riesce? Sono vivi. E dei nostri nessuna traccia. Non c'è tempo da perdere. Prendi. Butto con la cinque. Buonasera, Cali. Volete ballare con noi? Ma che ci facciamo noi alla donna? Che ci facciamo noi alla donna? Che ci facciamo noi alla donna? Prego. Buonasera. Buonasera. Tu non ti muove, ci hanno ordinato di stare qui. E' un po' per il suo appalto. E' un po' per il suo appalto. E' un po'. E' un po' per il suo appalto. E' un po' per il suo appalto. E' un donna di natura. Ma qui è come se fosse scritto in cinese. E' forte, stai leggendo alla rovescia. Distrazione. E' mancino. Beggio. Spaghetti per tutte. Oh, non ci sono. Lasagna. Non ci sono. Vermicelli. Eh sì, vermicelli, sono molto buoni. Vermicelli. Speriamo che sia... Vile che le te le labla. È una specialità di questa tlattolia. Come lo dice bene. Ecco i belliceli. Con una salsa speciale. Scusi, ma è sicuro che sono belliceli? Siculo. Ignorante, se dice siculo. Ora ve li faccio vedere crudi. Buon appetito, piccirite. Ecco i belliceli. Sono freschi. Ma questi sono vermi. Proprio vermi. Quali? Ma questi sono vermi in carne e ossa. Solo carne, non amore. Ma come si permette? Vada via. Ma ci sarebbe una cosa più semplice da mangiare? Una cosa semplice ci penso io. Cotoletto e moscato. Il moscato, il passito? Ma va bene, ma come sono fatte? Carne di tane e sugo di mosche. Una bontà. So io quello che ci vuole. Una speciale zuppa di latte. E va bene, mangiamoci il latte. Un momento. Che non sia latte di formiche. Che mancherebbe? Formiche no. Solo latte. Portasse via questa roba. Però che gusti che avete. Ecco, controllate, perché non ci sono fabbriche. Schipo, scarapone. Ma carozi, queste scarafaccione. Queste blatte. Scarapati sono blatte. Mi portassero uova. Sì, sì, mi portassero uova. Uova? Così perlomeno mangiamo qualcosa. Ma come mangiate? Uova straordinarie. Ancora? Me ne dia un altro, che ho fame. Scusi, uova di giornata? Ah, certo. Uova di Tantelluga. Porti da bere, questo muore qui. Presto. Eh, sì. Ecco, presto. Bevi, bevi. Buono questo lambrusco. Sangue di selpenza e scoiacco vivo. Vuoi pure, Cingioglio? Mi dispiace che la nostra cucina non vi sia piaciuta. Non mangio più. Ma spiello che gustelletti i piaceli della nostra carne. Ma che ci avete preso per cannebale? Ma no. Eh? Si tratta della mole. Seguimi. Sì, sì. Sì. Ciccio, ma ti sembra questo il posto per fare l'amore? Passeremo una notte indimenticabile. Sono orientali. Usano sistemi esotici. Ciccio, a me è sempre piaciuto l'esotichismo. Noi andiamo un momento di là. Torniamo subito. Ciccio, la mia mi ha baciato con la bocca. E la mia con le labbra. No. Ciccio, ho l'impressione che questo letto abbia troppi chiodi. Sistema esotico. Qui ci fanno l'amore i fachiri. Ma allora fate cosa? Perché? Se ci vogliono i fachini per fare l'amore. Ma che fachini? I fachiri. I fachiri sono hindù. Perché noi non siamo hindù? Hindu! Uh! 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 I signori desiderano? Siete nostri. Se salete buoni non vi faremo male. Diteci la formula. La formula segletta. La formula? E chi la conosce? Scusateci ma non ce l'hanno ancora presentata. Ma che fanno? Allora diteci dove nascosta? Se non fare l'etto useremo metodi duri. Capla! La capla. Ciccio, ma che vogliono queste bufale? Ma dico io! Ciccio! Ciccio, chi ha indichiarato quel rongong? Le scalpe! Ciccio, ora ho capito che so, lo vogliono rubare le scarpe. Scarpali! Allora, visto che non volete collaborare con noi, ci faremo due lisate. E facciamoci due lisate. Mettigli sale sui piedi! Ma io i piedi ce lo volete? Ma che me fanno? Ma io non ho i piedi dolci. Perdereste del tempo e del sale. Noi vi faremo morire dall'idele. Alla capla piace il sale. Su, bella, lecca, lecca! No, aiuto! Mi fate morire, mi fate zolletico! Ah, no! Aiuto! La formula! Ma quale formula? Bravo, sei un enorme! Ma quale formula? Ma ti piegherò! Su, bella, lecca! E non ti fa il male fino a che il signore non ha confessato! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! È morta! Avvelenata, per confuso! Oh, la provo la tortura dell'acqua! Se non confessi ti riempilo d'acqua fino a farti scoppiale! Ma io non ho niente da dire! Scusate, perché io ho fide da bere? Da qua! Mi fate soffrire! Mi fate soffrire! Palli? Vuoi pallare? Basta! Vuoi qualcosa? Sì! Vorrei un bicchiere d'acqua! Subito! Testa, tula! Un momento, che c'entro io? Ah, che te fanno, Ciccola? Calma! Ragioniamo qui! Ah, no! Il fuoco no, eh! Il fuoco non mi piace! Ciccola, lo spiedo te fanno! Smettete la figlia del sol ponente! E non li offendere! Oh, la tua amica o panne la! Allora la prova della sega! Ma io non ho niente da compasare! E non ho? Scusate! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uscite. Non abbiamo la chiave. Uscite. Usciamo. Svelti, scappiamo prima che arrivino gli altri cinesi. Ma ci avete liberati. Da, da. E perché? Perché i cinesi non ci piacciono come non piacciono a voi. Finalmente i russi sono riusciti a catturarli. Adesso ci faremo due risate. Forse hai capito che è stata una mia idea, cimo. E adesso sono stanco di pensare a cose serie. Se è la solita soraglia per me, dille che sono uscito, buffa. Pronto? Sì, sono io. Come? Ma dite davvero? Ma non è possibile. Bicarbonato. Dite che la formula che vi abbiamo mandato serve solo a fabbricare il bicarbonato di sodio? Ma come mai? Mi pare assurdo. Sì, va bene. Provvedo subito. Vi richiamo io. Lì un po', Armando. Hai sentito quello che è successo? Fred, è stato uno piacevole equivoco. Sto zitto, non negare. Io ti devalvolizzo. Buono, buono. Tu hai combinato un pasticcio terribile. Hai dettato la formula falsa per gli agenti veri. E la formula vera per quei due deficienti. Ma che pensavi? Sognavo di valvoleggiare con Sofia. Bene, sogna pure quanto vuoi. Intanto io adesso ti faccio togliere tutte le valvole sessuali. Così almeno alle donne non ci pensi più. No, 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 Fred. Ma ti rendi conto che razza di imbroglio hai provocato? Mi hai fatto regalare ai russi la formula segreta. E hai anche fatto in modo che gliela facessi scoprire prima. Sofia, Sofia. Ma adesso ci pensi più. No, fermo. Non fare sciocchette, Fred. Hai famiglia? No, no. Fermo. Fermo. Attenzione a tutti gli agenti in servizio sulla Costa Azzurra. Preparatevi ad intervenire con la massima urgenza. Mi permesso? Missione compiuta, capo. Non sappiamo come ringraziarla. Bene, ormai la formula è nostra. Fate entrare il dentista. Ma chi è che hai il mal di denti? Io non ce l'ho. Ma che fai? No, no. Ciccio, che mi fanno? Che ne so? Nulla di male. Solo aggiustiamo un po' con la dentatura. Ma questo hai i denti sani. Ma io c'ho i denti sani. Non ho niente da curare. Fia zitto e apra la bocca. Ma... Ho detto apra la bocca. Ma questo hai i denti sani. Sì. Ha visto? Con quella bocca può dire ciò che vuole. Adesso cerchiamo dente con otturazione. Eh? Maledizione. Che cosa c'è? Sono tutti otturati. Allora cosa facciamo? Leviamoli tutti. No, stasini. Ma cerchiamo di stare qua. Fatevi parlare col mio dentista personale. Ma no. Ma quello c'è una bocca meravigliosa. Guarda. Le scarpe con le baionette. Dio. Le scarpe con le baionette non escono più. No. Che cosa è successo? Via, seguimi. Dove sono? Dove sono andati? Gatturateli. Potete anche ucciderli? Tanto ormai sappiamo dove è la formula. Date l'allarma a tutti. Correte. Correte. Vi mando in Siberia. Resto. Andate a tutti. Smenti. Cari compagni allievi, la seduzione è l'arma principale della donna spia. Già. Già. Senz'altro così. Con il coraggio e la preparazione potrete ottenere ottime risultati. Ma servendovi del vostro fascino, i risultati saranno senz'altro eccezionali. Natascia? Vieni qui. Oh no, no. Tu sei piuttosto impacciata, troppo rigida. Hai molto, molto, molto poco sexy. Ah, però tu hai la materia prima e con questa materia avrai più informazioni tu dei nostri migliori agenti del servizio segreto. Quando trovi l'uovo che ti interessa, tu devi cercare di provocarlo senza che lui se ne accorga. Regola prima. Camminare anche giando, provocando nel posteriore un movimento sussultorio e ondulatorio. Prova? Prova. Oh no, no. Tutto sbagliato. Tutto da rifare. Non possibile. Tu così non conquisti neanche un soldato che ha fatto tre mesicella di rigore. Guarda, guarda come si fa. Ecco qua, due cavie. Tavaric. Tavaric. Scusate. Signor Tavaric. Ma che fai? Eh, non c'è. Non c'è, protino. Venire avanti, Tavaric. Adesso io vi faccio sedere. Eh, eh, a noi. Da, da. Tattaccia? Edesso da. Ma... Ciccio, sai che significa da? Sì. E dimmelo. Sì. No, dico, sai che significa da? Sì. E perché non me lo dici? Sì. Ciccio, forse non mi sono spiegato. Io ti ho detto, sai che significa da? Sì, sì. E perché non me lo dici? Allora, lo sto dicendo, sì, 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 capisci? Da significa sì. Sì, da. Sì. Ah. Sedete. Natascia, fai come me e ricordati di muata Ari. Ciccio, ma che vogliono? Ma quello che vogliono, vogliono a me sta bene. E a me che sta male. Signore, non faccia stupedaggine, non si spoglie, si riguardi la salute. Fa freddo. Ma qual è freddo? Qui fa caldo, spogliarsi, spogliarsi, svelte. Non facciamo scherzi. Io non sono abituato. No, io già soffro con mal di denti. La prego, non me faccia venire volca al stomaco. Ciccio, ha schifo finito. Ciccio, facciamo cambio della donna. Ti do dieci rubli. E non mi disturbare. Leva l'osso. Leva l'osso. Leva questa brutta gambaccia. Basta, non ne posso più. Ed ora, momento magico. Bacio, allungo, un mitraggio. No, ma che vuole? Voglio baciarti a lungo. Invece di baciarmi a lungo, perché non bacia il lungo? Proposto, respinto. Ma tu sei uomo di ferro. Sei resistere a qualunque seduzione. Prova anche con lui se uomo di ferro. Mi oppongo. È opposizione respendissima. Vogliamo provare a cambiare soggetto? Da, da. Natasha! Abbi cura del compagno. Natasha, da, da, da. Da tutto al frangozzo tuo. Eccolo, sono loro. E' mia mia mia! Non prego, non fare male a piccolo Mugico. Chi bacia meglio di piccolo padre Nikita? Dove sei andato a frenere? Vai, vai, vai. Stai attento! Mi hai prestato il callo. Accendo un fiammifero. Aspetta. Svelto. C'ho la tasca al buio. Eccolo. Aspetta che accendo. Deve essere un magazzino di limoni. Mi sono bruciato il detonio. Accendo un altro fiammifero. Aspetta. Vai. Ecco. Ciccio, un mal di dento. E non ci pensare, pensiamo solo a scappare. Che c'è qui? Guarda quante belle candele. Accendene una. Che sono belle. Guarda questa, quanto è piccolina. Ciccio. Cosa c'è scritto? Marsala all'uovo. Peccato. Mi volevo ubriacare. Un mal di dento. Mi fa un male da morire. Lo svolto in sudan. Ah, spegni. Se ne sono andati. Ah. Andiamo di qua. Prendiamo il cecandeli, sì. Accendi. Mi diverte quando accendo. Ciccio, sempre mal di denti. Non mi era mai successo. No, e non ci pensarti, ho detto. Dove andiamo? Là ci deve essere un'uscita. Vieni. Ciccio, perché sono fuggiti? Ci avranno scambiati per fantasmi. Ma? Vieni di là. Andiamo. Però non sono riuscito a capire perché sono scappati. Qui c'è un'altra porta. Speriamo che sia la porta buona. Speriamo. Vai. Ma questa porta non si apre. Spingi. Ma le candele non servono più. Aspettami. Ma come ha fatto a scoppiare tutto? Avranno lasciato il gas aperto. Beh, non pensiamoci più, eh. Ma io dico perché tutti quanti ce l'hanno con noi? Eh, che ne so. Ai, ai. Questo dente mi fa impazzire. Non ci pensare. E come faccio a non pensarci? Il dente ce lo imbocca io. Ai, ai. Ma che devo fare? Me lo voglio togliere. Ah, sì? E dove lo trovi il dentista? Ma quale dentista? Se io non sei un amico. L'amico si vede nel dolore. E quindi mi deve aiutare a togliere. Va bene, vieni, provvederò. Vieni, vieni. Provvede, provvede, Ciccio, provvede. Provvede, provvede. Che facciamo, ricatturiamo? Aspetta, qui potrebbero sfuggirci. Certo. Vediamo prima cosa hanno intenzione di fare. Restai calmo. Ci sei? Sì. Io parto. Mi agio. Il dente è rimasto qui dentro. E che ci posso fare se il dente è come la testa? E che colpa ne ho io? Aspetta, vieni con me, vieni. Dove mi porci? Non comprendo cosa stiano facendo. Mi sembra che vogliono. Lompele una macchina, passo. Pensi che sia giunto il momento di intervenire? Ancora no. Adesso dimmi cosa stanno facendo. Non saprei dillo. Si sono avvicinati ad un albero. Dai. Dai, assassino del dente. Ciccio, la pena di morte è stata abolita. E in Francia ancora no. Ma io vorrei esprimere le ultime mie volontà. È del tuo diritto, figliolo. Cosa vuoi? Vorrei che mi togliesse questo dente schifoso. È quello che sto facendo. Allora fai presto. Sei pronto? Prontissimo. Viva Palermo. È Santa Rosalea. Abbicede. Pazienza. Mi sembra che uno dei due si voglia impiccare. Passo. Ma Gali, ci facilite l'è bel compito. Il dente è il piede. Il piede è il dento. Il dente è il piede. Che Dio mi danni se riesco a capirci qualche cosa. Quei due sono assolutamente imprevedibili. Ragazzi, occhi aperti. Se ci scappano il capo ce la farà pagare cara. Ma sei sicuro che questo sistema funziona? No, funziona, funziona. Ci mancava pure il piede. Ma che devi togliere, il piede o il dente? Il dente, però. E allora fidati di me. Ne vedo. Sei pronto? Prontissimo. Uno, due e tre. Che succede? Lispondi. Mio Mautung. Mio Mautung. Lispondi. Hanno intellotto la trasmissione. Deve essere successo qualche cosa di grave. Vuoi vedere che quei due l'hanno fatto fuori? Di moltacci loro. Ciccio, sei sicuro che questo spago regge? Non vorrei che succedesse quello che è successo le altre volte. Regge, regge. Io sono un lupo di mare. E io sono un lupino. Abbi sempre fede. Io parto. I due piccioni prendono il volo. Inseguiamoli col motoscafo. Bisogna prenderli prima che raggiungano l'altra spiaggia. O viri o morti. Chi avete in moto? Ah, ah, aiuto! Ah, ah, inizio! Inizio, ti sparano! Inizio, ti sparano! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah, ah! più forte come faccio a correre non vede che ho bucato noi e poi c'è pure il mal di dente e di piedi ci sposa ehi ma che moro state attenti Voi, vai, voi! Eccoli là, presto! Buonino! Buonino! Tu è un ministro e malcazzoni! Mi ha la pista tutta! Questa galleria non me l'aspettavo. Sono spariti! Chiudi qua! Chiudi là! Sì! Mio Mautun, cosa fai? Clettino maledetto! Dove sono andati? Rispondi! Rispondi! Sono fuggiti quello del dente Zoppica! Presto, al motoscar! Prego! E' bene? Io non li ho visti! Non ci sono! Ma come, eppure è facile! Uno dei due Zoppica! Ma... Sì! Via! Ehi, guardate lì! Un prete Zoppica! Vuoi vedere che... Ehi, voi due! Fermatevi! Ehi, lì, my girl! Fermatevi! Che cosa stai? Che stai! Ci hanno rubato i vestiti! Pagnino! Che stai! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.